Nuovo appuntamento per la rubrica Storie di voi. Siamo con Renato D'Agostini, 39 anni, Sandro di Piave, fotografo, di professione fotografo. Renato, che cosa ti ha ispirato principalmente a interprendere questa attività? La luce, nel senso che quando avevo 17 anni, per una serie di casi anche molto fortunati della mia vita, mi trovai ad affrontarmi con una situazione in particolar modo. Mi trovavo a Venezia e riusci a vedere in una situazione di vita quotidiana un qualcosa che succedeva, una famiglia, passeggio e per qualche strano motivo mi dissi, senza neanche sapere cosa volesse dire, mi dissi quella sarebbe una bella fotografia. Andai a casa, era domenica sera e mi continuò a battere nella testa questa idea di cosa voleva dire quello che avevo appena detto, cosa è una fotografia. perché in quel momento mi portava a dire dovrebbe essere immortalato. E da lì iniziai a... Quanti ne avevi, Renato? 17 anni. 17 anni fu la prima volta che riusci a capire, forse, o a vedere, senza sapere, cosa voleva dire una compressione di elementi dentro a un formato rettangolare. e da lì iniziai a interessarmi molto di più. E quando hai iniziato a diventare un lavoro, poi questa Venezia che ti chiama e adesso siamo qui, Venice Venice Hotel, una Venezia che dopo 14 anni di esperienze all'estero in Paglione New York ti ha quasi richiamato all'attività. Venezia mi ha richiamato sull'attenti dopo un'esperienza all'estero e rispondere alla domanda è diventato un lavoro... intanto è iniziato come passione, perché la cosa bella di lavorare con l'arte, che comunque inizia da una passione sfrenata, che man mano che ho continuato a approfondire il soggetto, ho capito che veramente era la direzione che volevo nella mia vita. Mi sono dedicato al 100% e piano piano ho iniziato a diventare un lavoro. A Venezia ho iniziato e a Venezia ci ritroviamo oggi, dove viene racchiuso, in queste pareti, in questo Venice Venice Hotel, in questa stanza in particolar modo, viene racchiuso il mio percorso, per adesso. Poi modificabile, organico, che stiamo studiando, per portarlo ad essere quasi un percorso attraverso la mia fotografia. Quindi da Venezia ho iniziato e continuo a Venezia. E con che cosa consiste appunto questo progetto legato al Venice Venice Hotel di Rialto? Allora, quando mi fu chiesto di partecipare a questo progetto, avevo già fotografato Venezia in passato, diverse volte, per diversi progetti, e mi chiedevo cos'altro posso tirare fuori da Venezia. Venezia è meravigliosa, ha un'infinità di bellezza, di elementi, di profondità, però a livello fotografico c'è sempre il rischio, dietro l'angolo, di cadere nel cliché, che è una cosa che cerco sempre di evitare nella mia fotografia, in qualsiasi posto nel mondo dove mi trovi. Venezia è il più rischioso, però la possibilità che mi ha dato il team del Venice Venice Hotel era di sfidarmi ancora di pensare oltre, come loro stanno facendo, come loro hanno fatto nel pensiero di questo hotel, nella visione che hanno, quindi di spingersi oltre l'hotelleria, oltre il classico hotel, e quindi così ho pensato anch'io di andare oltre con la mia fotografia, e sono arrivato a una serie fotografica che sta diventando il mio prossimo progetto, si chiamerà Venietziam, ritorna ancora, che sembra essere, secondo John Ruskin, i suoi tre volumi sulle pietre di Venezia, essere una delle possibili origini del nome Venezia, quindi Venietziam, quindi lo studio dell'acqua, lo studio dell'elemento primario di Venezia, secondo l'origine stessa della città, ancora prima che la città diventasse città, era acqua, quindi sono partito da zero, e questo mi ha spinto verso una nuova visione del mio lavoro, un nuovo percorso, e questa stanza racchiude un po' il come sono arrivato a quello. Una stanza appunto dell'hotel, che racconta appunto il tuo lavoro, tu lavori su pellicola, sei uno di pochi fotografi che lavorano ancora nell'arte della pellicola, quali sono i soggetti che ti incuriosiscono di più? Cioè quando è che una foto diventa per te una cosa interessante da raccontare? Potenzialmente è tutto, qualsiasi elemento della quotidianità, qualsiasi elemento inutile della giornata, qualsiasi elemento eccellente nella giornata epico, ogni cosa può essere, per me, per come fotografo io, può essere interpretato. La realtà in generale, potrei dire per rispondere alla domanda, la realtà in generale che è un teatro sul quale basarmi per estrapolare, distillare i miei soggetti e creare il mio mondo, che nella maggior parte dei casi, o almeno quello che cerco di fare, tende all'onirico, all'infinito, a quella sensazione del quando sei dormiveglia, apri gli occhi, ti senti spaesato, e trovare quella spinta verso il prossimo passo che farai, ma senza sapere esattamente dove sei. Ecco, in particolare vogliamo raccontare anche un po' questa stanza, la stanza che l'hotel ha dedicato a te, che racchiude un po' i lavori del tuo percorso, della tua vita, e un po' ricorda, racconta anche il tuo laboratorio. Sì, questa stanza l'abbiamo scelta io e tutto il team del Venice Venice Hotel, perché dato che doveva dare modo alla persona, all'ospite che entra nella stanza, di sentire il mood, il feeling, la sensazione del mio studio, l'abbiamo scelta perché ricorda molto il mio studio di New York, in primis, quindi con un loft, nel mio loft new yorkese avevo il letto sopra la camera oscura, qui c'è il letto sopra la zona bagni, quindi ricorda un po' quella struttura lì, e anche quella attuale del mio studio qui in Veneto, nella campagna Veneta, dà un po' la sensazione dello studio dell'artista, salendo per le scale si va nella zona appunto dove dormire, con la vasca e tutto, e giù c'è lo spazio più da lavoro, tra virgolette, che in questo caso è più da relax e da vita nell'hotel, nella stanza, con tutti i lavori attorno. Quindi era proprio un po' il ricordare quel loft artistico che mi ha seguito da quando ho iniziato a lavorare nella fotografia per motivi strutturali, della necessità di una camera oscura e di uno spazio dove vivere allo stesso tempo. All'interno della camera è anche un casco, spicca un casco, che è uno degli elementi che ti consente di fare delle fotografie un po' in giro per il mondo, coraggimi se sbaglio, il casco e più che altro la moto. Eh sì, moto e casco vanno insieme. Questo casco qui è il casco che, esattamente lo stesso casco, gli stessi occhiali da moto che ho usato in questo viaggio, che ho fatto nel 2015, quando ancora vivo a New York, da New York alla California, due mesi, 12.000 chilometri. E quando Alessandro e tutto il team mi hanno detto pensa a qualche elemento che può avere senso per la stanza, gli ho detto il casco, perché per me viaggiare in moto e fotografare sono due cose che vanno insieme. Il costo costo attraverso gli Stati Uniti, che si chiama 7439, che sono 7.439 miglia attraverso gli Stati Uniti, doveva essere fatto in moto quel viaggio, perché quando viaggi in moto senti la pioggia quando arriva, senti il sole che ti brucia la pelle, senti il freddo, senti il caldo, sei molto più esposto, fai parte del paesaggio, molto più che essere in una macchina con il vetro davanti, l'aria condizionata o il riscaldamento. Quindi per me la moto è la sensazione assoluta del viaggio, dove fai parte del paesaggio, non ne sei una capsula che ne viaggia internamente. Quindi il casco, con molto piacere, anche la targa della moto americana che ho usato per fare il viaggio, li ho messi qui perché volevo che tutti gli elementi potessero raccontare la storia, piccoli dettagli, piccoli aneddoti della mia storia attraverso questi 20 anni, 22 anni di fotografia. E quindi sono sparsi quei lì, nella stanza. Possiamo dire che la tua storia parte da San Donà, parte del Veneto orientale, poi approda a Venezia per motivi di studio, di fotografia, di passione, gira un po' per tutto il mondo, buona parte dell'Europa, per tutto il mondo, per poi ritornare almeno in questo momento a Venezia, a trovare un hotel, un porto sicuro a Venezia? Sì, la mia storia parte da San Donà di Piave, quando saltavo scuola il sabato per venire a Venezia. Io lo facevo per la fotografia, non lo facevo perché non avevo voglia di andare a scuola, ma perché avevo la macchina fotografica e a Venezia succedevano cose. Per me succedere cose, anche nella banalità del quotidiano, è proprio un passo, o due passi, o tre passi di tre persone. Era proprio... succedevano cose. E volevo quindi venire a capire se la fotografia era quello che volevo. La risposta è stata molto immediata e quindi ho deciso di intraprendere... non posso dire la carriera perché al momento non sapevo cosa volesse dire la carriera di fotografo, ma la sfida di provare a vedere se potevo creare qualcosa che mi dava soddisfazione, che poteva creare qualcosa nella mia vita, un mio pensiero, un mio percorso. E quindi dopo tanti anni ritorno con questa situazione del Venice Venice Hotel a presentare quello che è stato il mio percorso. Quindi da Venezia ad altrove ancora Venezia.